Eccoci qua ragazzi, finalmente vi possiamo svelare qual è il nostro grande progetto Grosso, impegnativo soprattutto Abbiamo dato tanti spoiler, tanti sondaggi, a che ora, a che giorno Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? La nostra serie, la nostra serie La serie, la, grosso Di che si tratta? È una guida completa in episodi, 7 episodi totali a Corsair IQ Il programma di gestione delle periferiche, targate Corsair, ma non solo Ora, effettivamente, abbiamo deciso di dare una divisione particolare a questa serie Come l'abbiamo strutturata? L'abbiamo strutturata sicuramente in macro sezioni I video sicuri, oltre a questo, in cui vi presentiamo semplicemente un po' l'interfaccia Quindi una sorta di introduzione Sono due Due i principali Un totale di tre video, gli altri due che verranno saranno sull'illuminazione e sull'assegnazione di tasti Cioè, praticamente, le macro Questi sono gli unici video che verranno sicuramente Perché, a parer nostro, sono le uniche categorie che sono fondamentali Un po' più, no, non sai, complicate E quindi meritano una trattazione specifica a priori di tutto Poi ci regoleremo in base ai mi piace e verranno altri cinque video, giusto? O sei? Quattro Facciamo un totale di quattro Ci siamo quattro o cinque video Sì, noi siamo pronti a passare invece al primo episodio All'azione Ovvero, l'introduzione e l'interfaccia Quindi, passiamo a vedere subito al PC L'interfaccia di IQ Eccoci dunque con il nostro IQ Sotto mano Questa è l'interfaccia che ci si presenta Che cosa troviamo? L'interfaccia home è fatta così Qui abbiamo questa zona in cui abbiamo le nostre periferiche Mentre qui nella finestra sulla sinistra abbiamo le scene Che si possono chiaramente eliminare quelle predefinite da Corsair proprio Si possono aggiungere quelle personalizzate, quindi create da noi Qui abbiamo i sensori che, vabbè, si possono poi vedremo dopo vedere anche nella dashboard Configurare eccetera eccetera Però qui li abbiamo sotto mano subito insieme anche alle periferiche Mentre nella dashboard si fa solo di sensori E infine qui in alto abbiamo la categoria dei profili I profili sono una cosa, probabilmente la cosa più importante di IQ Quindi ogni profilo contiene tutte le informazioni Le personalizzazioni fatte per un dato utilizzo su tutte le periferiche Quindi se noi per esempio andiamo Io adesso vado su predefinito In cui ho appunto le impostazioni predefinite Che solitamente le utilizzo Google, Desktop eccetera eccetera Compreso anche l'editing Una volta utilizzavo un profilo dedicato però poco ne vale la pena Abbiamo tutta l'interfaccia qua delle varie periferiche Chiaramente più prodotti avete collegati E più cosa avrete da configurare Semplice, no? Qui ce ne sono parecchi collegati Qui ce ne sono parecchi sì perché sono un po' nerd Quindi insomma c'è un po' di roba Escludete questo che è in realtà del portatile Non c'entra niente con il fisso Infatti come vedete è spento Però è collegato al dongle delle cuffie Delle HS80 E quindi me lo rileva insieme Quindi abbiamo le cuffie Il dongle collegato alle cuffie Che ha delle impostazioni sue Ma in realtà sono poche e niente Comunque le vedremo Poi abbiamo il mouse Il sabre champion series Il tappetino Lo stand per le cuffie Il famoso commander Che finalmente ce l'abbiamo sotto mano Commander pro 60 euro di commander E la tastiera Questa è l'interfaccia generale di tutte le periferiche Le vedremo nello specifico nei prossimi video Tranquilli Non tralasceremo nulla Almeno se questa serie la volete La volete completa La finiremo E il vostro supporto ragazzi Che porta avanti questa serie Ricordatevi Abbiamo all'incirca tre episodi fissi Dove spiegheremo le cose principali Ma proprio base base Ma poi se volete tutto il resto degli approfondimenti E c'è molto da approfondire Gli altri quattro episodi restanti Perché come abbiamo detto sono sette episodi Beh questi dipendono da voi Sette per ora Poi se volete qualche altro approfondimento Che magari ci è sfuggito Si lavora ancora Si lavorerà Successivamente O più avanti Se dovessero mandarci qualche prodotto nuovo Qualche insomma Avete capito Si va tutto Lo porteremo Tanto stiamo facendo apposta questo format così Per poter eventualmente poi nel futuro aggiungere Chiaro Quindi questa è l'interfaccia generale sulla home E poi abbiamo la famosa dashboard Ora Tra i profili come potete vedere Si possono tranquillamente aggiungere Questa è una cosa che hanno aggiunto con la nuova versione Motivo per cui appunto stiamo rifacendo il video Uno per una motivazione prettamente tecnica Però la seconda cosa è perché è cambiata molto l'interfaccia E quindi andiamo a rifarla Con IQ 4.0 Che poi adesso non siamo più a 4.0 4.29 tipo Insomma Andiamo a creare un profilo Quando andiamo a creare un profilo Si hanno queste scelte Quindi si può mettere tra appunto le icone Queste predefinite di IQ Che non sono nemmeno un granché Questa è proprio l'icona di IQ precisa precisa Qui invece si può selezionare dal nostro PC Appunto un BMP, GIF Qualsiasi tipo di immagine Personalizzata Per andare subito ad identificare il profilo A seconda appunto dell'icona Senza magari se uno va a mettere un nome abbreviato Non si ricorda Voi con l'immagine No Si va ad aiutare semplicemente Oppure si può scegliere una tinta unita Che vabbè Non lo vedo Tutto mi sembra molto spontaneo e banale Tutto questo non è qualcosa Sicuramente Oltre all'icona di profilo Che non lasceremo questa Ma per la prova Perché tanto non ci frega niente Possiamo selezionare il nome Quindi possiamo scrivere qualsiasi cosa Per richiamare appunto a cosa servirà quel profilo O comunque il programma a cui è legato Per ricordare noi cosa dobbiamo selezionare Quando ci servirà Poi qua abbiamo l'immagine O il video di sfondo Quindi quando noi apriamo questo profilo Cosa apparirà nello sfondo Sinceramente non l'ho mai utilizzata Questa cosa Perché Non lo so Anzi Non mi viene a creare confusione A mio viso Si magari per qualcuno Un pochetto più nerd Che gli piacciono queste cose No Quando vado ad aprire il profilo Si Che è più figo Può anche piacere Comunque È disponibile E quindi si può fare A chi piace App collegate Questa è una cosa che c'era anche prima E che è molto utile Non funziona molto bene sempre Ma questo non è un fatto legato ad AQ Corsair non c'entra nulla È più che altro Dato appunto dagli sviluppatori Quindi possiamo selezionare un file exe Quando questo viene eseguito Quindi quando è in esecuzione E la finestra selezionata E quella appunto stessa dell'exe Va Lasciate perdere Alexa Che si attiva a caso Abbiamo appunto Capisce Alexa Lascia stare Che è un po' stupida Che devi fare Sempre meglio di Bixby Comunque Possiamo Cioè il programma Andrà automaticamente A selezionare il profilo A cui noi abbiamo collegato Quell'exe Questa è una cosa molto utile Per esempio per i giochi Per chi fa streaming Quella cosa Senza ogni volta Che va a cambiare gioco Devi anche abbinare il profilo Devi scegliere Per di tempo È un po' una rattura di scatole Perché sta in icona Devi andare ad aprire il programma Insomma Per di tempo Selezioni l'exe del gioco Ogni volta che vai sul desktop Ritorna il profilo predefinito Quando apri invece la finestra Quindi la selezioni Mentre stai giocando Si va a cambiare il profilo automaticamente Quindi c'è le due impostazioni Selezionate prima preventivamente E tutto va alla perfezione Abbiamo il nostro profilo selezionato Qui possiamo andare a selezionare Ogni singola periferica Tranquillamente E modifichiamo tutte le impostazioni Quindi quali possono essere Il profilo del DPI E i DPI selezionati per il mouse L'illuminazione Le macro Le impostazioni di dispositivo Per la tastiera L'illuminazione di tutto il sistema E via dicendo E sono modifiche che vedremo Nei prossimi video E sono modifiche che vedremo Nei prossimi video Che chiaramente sono dedicati Soltanto a uno degli aspetti Perché questa è solo una panoramica generale Se andassimo a fare come l'altra volta Un video totale Che includa tutto Sono usciti due video ragazzi Due ore di video Sono due ore di video E non abbiamo nemmeno detto tutto Quindi sarebbe veramente infattibile Sia per noi Che per voi Che per voi Perché capiamo che insomma Vedersi due ore di video È una rottura di scatole Anche perché così Ognuno può scegliere Quale video L'argomento è interessato È molto figo secondo noi Oltre a questo Possono essere tranquillamente Eliminati i profili Esportati i profili Che è una cosa molto utile Adesso la vedremo Importati stavolta Importati chiaramente Modifica profilo Serve per modificare il nome L'icona Quelle cose che abbiamo visto Che abbiamo visto prima Quando si va a creare Rimunare profilo Semplicemente serve per rinominare Appunto il profilo E impostare come predefinito Invece È quella cosa che vi dicevo prima Quindi quando Voi avete più profili Legati a un dato programma Quando voi tornate sul desktop Quindi non c'è più Quell'exe selezionato A cui è legato il profilo Il programma cambierà automaticamente Scegliendo il predefinito Penultima cosa È la cartella Che noi possiamo creare Possiamo denominarla Per esempio Per avere più ordine Mentale Ma anche non Per esempio Magari senza la U Lo chiamiamo giochi E dentro ci mettiamo Tutti i profili che vogliamo Quindi noi creiamo Tutti i veri profili Dei nostri giochi Ne mettiamo nella cartella Giochi, lavoro Magari programma per programma Non si editate Qualsiasi tipo di cartella Quindi Quando voi La tenete Chiusa E aprite il programma Non vi vedete Una sfilza di 200 profili Ma sono tutti Racchiusi In macro argomenti Perciò Il tutto è più ordinato L'ultima cosa Da annoverare Prima di passare la dashboard È una cosa molto semplice Facilissimo Andiamo ad importa ed esporta Questa è una funzionalità Che in realtà È molto utile Era già presente Anche nell'altra versione Infatti ne avevamo parlato Che cosa fa? Quando voi Create dei profili O delle cartelle Attenzione Perché questa cosa È molto comoda Anche delle cartelle Potete andare su esporta Selezionate il profilo E che cosa Volete esportare Di quel profilo Quindi potete dire Qualsiasi cosa Tutte le informazioni Legate a quel profilo Oppure alcune cose Questo mi interessa E questo non mi interessa Magari l'equalizzazione Non ci interessa La togliamo Le assegnazioni Ovvero le macro Le possiamo lasciare E anche l'effetto di illuminazione Magari le prestazioni Raffreddamento E pericendole Togliamo tutto Perché non ci interessa Uno va a fare Esporta Se la metta dove gli pare Per definito Queue profile Quindi va a fare salva E il programma Esportazione completa Avrà esportato Il profilo Successivamente Con tutte le informazioni Adesso legate Che avete selezionato Successivamente Questa cosa Si utilizza Si utilizza Per lo più Quando Quando per esempio Dovete resettare il pc O dovete disinstallare Per causa di forza maggiore Il programma E poi reinstallarlo Non vi fa gli aggiornamenti Questa cosa Voglio dire Molto rara Che succeda Però Per vari problemi Anche di windows Magari può essere necessario Farlo Quindi Per non andare Ogni volta Se uno ha per dire 50 profili Non è che ogni volta Che disinstalla il programma Si può di nuovo Rimettere A configurare 80 periferiche Su 50 profili Perché poi ti viene voglia di comprare Periferiche Plug and play Da 20 euro E dice almeno Non devo fare Almeno non devo configurarle Quindi che cosa fa Esporta I vari profili Che se sono organizzati In cartelle Con un solo colpo Puoi esportarli Tutti insieme Motivo per cui dicevo Che sono molto utili Le cartelle Li va ad esportare E poi quando reinstalla Il programma Deve semplicemente Schiacciare Importa Si seleziona Il profilo Che non ricordo Dove l'ho messo Dovrebbe stare Qui da qualche parte Predefinito Q profile Lo si apre E si seleziona Che cosa importare Ovviamente Se queste informazioni Per esempio Prestazione HD Raffreddamento Prima le avevamo Deselezionate Quindi non sono presenti Nel file Effettivamente Se voi andate a selezionarle E fate importare Quelle non esistono Quindi occhio che esportate Esatto Attenti a cose esportate E piccolo consiglio Esportate sempre tutto Perché tanto I file Quello pesano Ma poi si seleziona In fase di importazione Esatto Poi al massimo Al posto Appunto All'importazione Dei selezionare Molto facile Importante Quindi Facciamo Importa E come potete vedere Importazione completa Noi abbiamo Predefinito Che adesso È il gemello Di quello predefinito Perché Quindi Occhio a come li rinominate Poi anche Però chiaramente Se il programma L'avete appena installato Quello non ci sarà E quindi Voi avrete di nuovo Tutti i vostri profili Con due passaggi semplicissimi Senza dover andare A considerare tutto Per ultimo Andiamo a vedere Questa fatidica Dashboard Che cos'è Semplicemente È l'integrazione Di un altro programma Corsair Fatto esclusivamente Per monitorare Il sistema Quindi Temperature Ventole Eccetera Eccetera Su IQ stesso Quindi per avere Sotto mano Mentre si è aperto Qui nella categoria Dashboard Tutte le informazioni Sul sistema Di fatto abbiamo quindi Un programma Integrato nel programma È una roba figa È soprattutto Molto molto comoda Perché basta averne uno Per averne tutti Per averli tutti Mostriamo velocemente Quindi Come funziona Semplicemente Si possono aggiungere Da qui Le varie schede Di cui vogliamo Monitorare Le impostazioni Quindi Può essere una K95 Con delle macro Selezionate In questo caso Per esempio Io posso mettere La scheda madre Queste si possono Tranquillamente Muovere E mettere Dove sono più comode Per voi Per darvi un attimo Un'organizzazione mentale Si possono Ingrandire Le schede Come si possono Anche ridurre E Vabbè Nasconde il grafico Se si vuole una cosa Più compatta Però sono anche Carini da vedere E infine Si possono rimuovere Se non sono più necessari Quindi In base alle Schede Che abbiamo a disposizione Sono disponibili Tutte le varie informazioni Che il sistema È in grado Di recepire Quindi Carico Le temperature La tensione La velocità Delle ventole Eccetera Eccetera Ogni Micro Diciamo Informazione Contenuta Nella scheda Può essere Modificata Quindi Il nomina Tensore Rimuovi Oppure Possono essere Spostati Dove vi pare E infine Abbiamo qui in alto Le notifiche Dove arrivano appunto Sia notifiche legate Agli aggiornamenti Fatti O qualche operazione Tipo in porta Ed esporta Ma anche Quando arrivano Dei nuovi aggiornamenti Del firmware Appaiono qua Non so Deve ne andare a cercare Manualmente Che è un po' scomodo Vabbè Abbiamo i tutorial Video fatti Da Corsair stesso Che però possono essere Un po' scomodi Sono l'inglese Quindi Infine Le impostazioni Le vedremo molto velocemente Perché è poco importante Le capite da soli C'è il generale Lingua Quindi abbiamo la lingua Che si può modificare Mità di misura Della temperatura Tra celsius E fahrenheit Che però Di base celsius Anche perché in italia Quello utilizziamo La via del programma Automatico I plug-in Philips U Che l'integrazione Con appunto U smart home Però Occhio da Occhio da Le lampadine giuste Perché nel caso Potete modificare I colori Luminosità Accensione Spendimento Direttamente dal computer Una volta associato Per la prima volta Però Se le lampadine Non sono RGB Quindi non recepiscono I vari comandi Legati ai colori E quando andate a selezionarli Hanno qualche piccolo problema Quindi possono Sarfallare le luci Si spengono da sole Io sono capito Da una volta Non l'ho più utilizzato Perché tanto Il pc Va automatico In RGB fisso E quelle Non supportano L'RGB Perciò La registrazione De bug Esportazione D'informazioni De log Insomma Tutta roba Tecnica Esatto Informazioni Che solitamente Non servono La dashboard Possiamo impostare Uno sfondo Sfogare L'immagine Di sfondo Oppure Impostare L'opacità Quindi Dissolvenza Da 0 a 100 Manuale Tra cui Anche I aggiornamenti Abbiamo detto Prima In realtà Comunque Arrivano le notifiche Arrivano le notifiche Però Potete fare manualmente Voi Anche per sicurezza Verifica Aggiornamento Per ogni singola periferica Oppure Per IQ stesso O tutti i dispositivi In una volta sola Il sistema di notifiche Funziona bene Quindi Non mi fissate Poi Nella categoria Registrazione Sensore Abbiamo La possibilità Di registrare Le informazioni Dei vari sensori Per Appunto Un intervallo Di tempo Definito Per esempio Se uno Mentre gioca Vuole fare Dei testi Di temperatura Chiaramente Mentre giochi Non li puoi tenere Sotto occhio Tu Li vai a registrare E poi dopo Te li guardi Comunque Una cosa Abbastanza inutile Per la maggior parte Delle persone A chi dovesse servire Può tranquillamente Sfruttare Poi Poi abbiamo La categoria Software e giochi In cui Può essere attivata L'integrazione Di software E dei giochi Appunto Per L'illuminazione Automatica Di IQ Che è una cosa Relativamente nuova Quindi Alcuni giochi Che sono compatibili Possono essere Attivati In base alle scene In gioco Con l'illuminazione Farà dei giochi Di luce particolari Che si adattano Appunto Alla scena In visualizzazione E' una cosa carina Non a tutti Può piacere Possono preferire Magari un'illuminazione Statica O qualche Però potete decidere Se attivarla O meno E quindi signori Detto questo Ritorniamo Nella home E Diciamo Questa è L'interfaccia Principale Di IQ Già con questo Avete comunque Già come orientarvi All'interno del sistema Poi Come potete vedere Un'interfaccia Molto intuitiva Abbastanza semplice Non ci sono Cose eccessivamente Complicate da capire In realtà le cose complicate Ci saranno Ma verranno dopo Perché Esatto Già dopo Con le macro È già più complicata Quindi se volete Destreggiare Basta giochiare un po' Alla fine Capite come funziona Comunque L'interfaccia È bella pulita Funzionale Ed è stata Sicuramente Migliorata Rispetto all'altra Versione Quindi Per questo video È tutto Tenetevi aggiornati Perché nei prossimi video Andremo Ed entreremo Nel particolare Nel dettaglio Nel cuore del programma Esatto Quindi per ora Signori È tutto Se il video vi fosse piaciuto Bravo Prima dobbiamo però Ricordare Come abbiamo già detto In introduzione Che dai vostri like Dalle vostre condivisioni Commenti Dal vostro supporto Dipendendo I futuri episodi Capiremo